Terza partita in una settimana per i Pentri, che dopo i pareggi contro Sangiustese e Recanatese, sono attesi dalla trasferta sul terreno del Sant'Arcangelo, scontro salvezza per gli abboni e soci. Serve una vittoria per non perdere terreno da quelle davanti. I due pareggi ottenuti negli ultimi turni hanno dato consapevolezza alla squadra e la giusta convinzione per centrare la salvezza. Ora però serve vincere e Sant'Arcangelo è l'occasione giusta. Mister Silva lo sa e si affiderà alla formazione migliore. Tano in porta, Lenoci fra Botta, Barrette e Di Leonardo in difesa, Ciacic, Cefazio, Ciccone e Maresca a centrocampo, coppia d'attacco formata dagli ultimi arrivati Schena e Petitti. Giba e Romano partono dalla panchina. Di contro però ci sarà un Sant'Arcangelo voglioso di riscatto dopo il recente K.O. nel turno infrasettimanale contro il Campobasso. Mister Galloppa contro l'Isenna non cambia e conferma l'undicisci in campo contro il Rosso Blu. Battistini in porta, davanti a lui con il 4-4-2 classico ci saranno Aristei, Fabri, Damo e Corvino. Centrocampo con Peroni, Bondioli, Pigozzi e Falomi. In attacco il duo Fuchi-Bernardi. Partita delicatissima per i pentri, tornare in Molise con punti pesanti e fondamentali in questo periodo della stagione. Al Valentino Mazzoli di Sant'Arcangelo di Romagna con fischio di inizio fissato alle 14.30, arbitra il signore Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza, coagliuato dagli assistenti di linea Stefano Papa di Chieti e Michelangelo Cardinaletti di Iesi. Grazie a tutti.